Vi lascerei a questo punto la parola alla Ministra Lamorgese per l'inistituzione di una parte. Grazie innanzitutto per averci dato l'opportunità a tutte noi Ministre di poter raccontare un poco di un provvedimento che ci ha visto tutte lavorare insieme perché l'obiettivo era quello di rendere più sicura la vita di tante donne che purtroppo in questo anno sono state vittime di femminicidio. Pensiamo che solo quest'anno abbiamo avuto 109 donne morte e quindi c'era un'esigenza davvero di intervenire come prevenzione di fatti così gravi. E allora abbiamo valutato insieme e approvato oggi e quindi ringraziamo il Presidente del Consiglio che è qui presente anche per il supporto che ci ha dato nell'approvazione di questo provvedimento. Abbiamo rafforzato alcune misure relative per esempio all'ammonimento del questore e soprattutto abbiamo inserito questa tipologia di reato tra quelle che è la violenza domestica. Quindi sono stati inseriti i reati di violenza privata grave, aggravata, danneggiamento, soprattutto laddove siamo in presenza di minori e quindi sono state inserite nell'ambito della fattispecie giuridica che è violenza domestica. Su questo aspetto abbiamo ulteriormente lavorato nel senso che abbiamo previsto l'estensione delle misure di prevenzione personali applicabili dall'autorità giudiziaria ai soggetti indenziati di delitti di violenza privata e così anche nei casi in cui sono stati già ammoniti dal questore e si sono resi purtroppo ancora una volta hanno adottato ancora una volta comportamenti violenti con minacce gravi e aggravate. Abbiamo operato anche in termini di adottando alcuni strumenti tipo il braccialetto elettronico che potrà essere ovviamente adottato da parte dell'autorità giudiziaria e sicuramente nei casi in cui ci si provveda anche senza querela direttamente con la procedibilità d'ufficio. Quindi c'è questa particolarità che in caso di atteggiamenti violenti si possa procedere con d'ufficio. Altro importante elemento è quello che abbiamo adottato in materia di provvisionale provvisionale vuol dire intervenire con un aiuto economico immediatamente nel senso che nella fase delle indagini abbiamo esteso a questa fattispecie quello che è già previsto per esempio in materia di estorsioni e allora potranno avere un terzo dell'inizio totale e su questo credo che sia un grande passo avanti perché è un grande aiuto alle donne che sono state purtroppo oggetto di violenza e tante volte non denunciano perché si trovano in una condizione anche economica difficile e quindi si rendono conto della necessità di procedere alla denuncia alle autorità di polizia, alle autorità giudiziarie tante volte anche in maniera ritardata ma una delle cause è proprio la questione del trattamento economico che purtroppo non è adeguato a consentire una vita tranquilla e quindi con questo provvedimento operiamo anche su questo fronte